Siamo arrivati alla seconda edizione del premio sulle ali della libertà, un traguardo molto importante. Sono arrivati 13 elaborati che ho letto attentamente e dove si denota veramente in alcuni veramente un percorso di cambiamento personale. Come ha sottolineato il vincisore dell'anno scorso, la cultura rende liberi. E questo è una cosa molto importante su cui noi come Isola Solidale vogliamo continuare. Il premio in maniera ufficiale verrà consegnato il 15 maggio. Da oggi fino al 15 maggio sui social ogni membro della Commissione rilascerà una piccola intervista su quello che ha suscitato in lui la lettura di questi elaborati.